Allora, eccoci qua con Sbernardi, diciamo veramente credo un bellissimo Natale, prima rinnovo di contratto, poi oggi la vittoria che ha praticamente significato, visto le notizie che arrivano da Modena, il sorpasso ai danni di Modena, quindi veramente una gran bella soddisfazione anche se come lei dice sempre il cammino è ancora lungo. Eh, noi l'ho detto, noi dobbiamo allenarci giorno dopo giorno e giocare partita dopo partita, io l'ho detto, noi giochiamo e facciamo il nostro lavoro senza guardare quello che succede dall'altra parte, poi se qualcuno perde qualche punticino per strada, ben venga, noi ne approfittiamo e li incassiamo, ma dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a migliorare il nostro gioco, dobbiamo pensare a migliorare la nostra tenuta mentale di concentrazione, in ogni tanto abbiamo delle pause, ogni tanto perdiamo concentrazione e dopo diventa difficile rientrare in ritmo. Oggi da un certo punto di vista siamo stati bravi per quanto riguarda il recupero, però non siamo stati bravi quando gli abbiamo concessi i punti gratuitamente come all'inizio del secondo set e alla fine del terzo. Comunque sia la prestazione comunque ottima in considerazione del fatto che all'inizio lei ha operato diversi cambi nel set iniziale, però hanno risposto bene i cosiddetti sostituti. Io l'ho detto, io ho la fortuna di avere a disposizione una rosa di altissimo livello, non solamente per quelli che giocano più spesso, ma anche gli altri, che non solo ci permettono di avere un livello degli allenamenti molto alto, ma mi permettono anche di poter effettuare delle sostituzioni senza che il nostro livello scenda. Quindi questo per noi è un grande vantaggio, lo dobbiamo sfruttare sia per far giocare chi gioca un po' meno, che ci dà la possibilità di conseguenza di far riposare anche qualcuno che magari arriva anche da tutta l'estate di impegni. Adesso Ravenna, che partita sarà? Molto difficile, aspettiamoci una battaglia Ravenna.